Buongiorno Presidente, sono Enrica Costini di Regno24. Non si può certamente dire che questa manovra, questa legge di stabilità non sia stata un punto di rottura un po' con tutti, con la Confindustria, con i sindacati, con i comuni. Dunque per un governo in esercizio straordinario come il suo, nel senso che era un partito come un governo di servizio, la stabilità è l'unico bene prezioso? Guardi, non è una legge di stabilità in rottura con tutti. Vedo che rispetto a questa legge di stabilità ognuno ha caricato aspettative che in questa legge di stabilità non possono portare tutte a risultato. Questo è semplicemente il punto. Io mi assumo la responsabilità della prudenza del buon padre di famiglia perché so e nella responsabilità che oggi ho, so che fare scelte che siano imprudenti è un errore. E io questo errore al paese, che ho l'onore e la responsabilità di guidare con quella logica di servizio alla quale lei faceva riferimento, non mi sento di far correre a questo paese rischi che questo paese ha corso qualche tempo fa, quando si raccontava che era tutto possibile. Non è tutto possibile. Siamo in un sistema e in un mare tempestoso nel quale è necessario, ripeto, fare i passi una per volta. La legge di stabilità indica un'inversione di marcia su tutti i punti sui quali oggi si sono poi addensate discussioni e critiche, inversioni di tendenze che i diversi soggetti vogliono più forti e più marcate. Ognuno chiede, tutti chiedono. Questa era la legge di stabilità di questo periodo. Tutti chiedono, ma la somma del tutti chiedono vuol dire la bancarotta dello Stato italiano. E io penso di dover fare delle scelte, me ne assumo la responsabilità, in un paese in cui, soprattutto in questi ultimi tempi, lo scarico della responsabilità è un grande esercizio collettivo. Io mi assumo la responsabilità di fare delle scelte e di dire a tutti quelli che chiedono che non si può fare delle scelte che mettano a repentaglio l'equilibrio, la solidità del nostro sistema. Le inversioni di tendenza ci sono tutte. Le tasse cominciano a scendere su famiglie e imprese, la spesa comincia a invertirsi tra spesa per investimenti rafforzata e spesa corrente invece diminuita. L'anno prossimo debito e deficit avranno il segno meno e cominceranno a scendere e la crescita comincia a esserci già dal trimestre in corso, dopo che si è fermata la caduta nel trimestre scorso. Anch'io sarei felice di essere in un paese nel quale non c'è debito, non c'è deficit, posso abbassare le tasse a tutti e c'è crescita al 3%. Non è l'Italia questo paese e non è l'Italia di cui ho ricevuto il testimone il 28 aprile di questo anno, cioè soltanto 8 mesi fa. E io penso che in 8 mesi il lavoro che ci consente di arrivare oggi nelle condizioni di poter dire si è fatta l'inversione di tendenza su tutti questi punti, crescita, tenuta dei conti pubblici, debito, l'inversione di tendenza c'è su tutti, tassi di interesse, su tutti c'è l'inversione di tendenza. Adesso bisogna accelerare, l'anno prossimo è quello che faremo.